E' un medico qui! E' un medico qui! In quantità. E in medicina. Tutte le sostanze più rare sono state rubate e messe all'asta. Vi aiuterò volentieri. Ecco la lista. Miss... Fry. Evie Fry. Miss Nightingale. Piacere. Sbrigatevi. Non rimane molto tempo. Forza! 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 E' solo che costa così tanto. Ah, sì, ecco, gli ingredienti sono difficilmente reperibili al momento. Somebody stop that devil! Ah, sì, ecco, gli ingredienti... Non restare, io super seri. Non so come ringraziarvi, quel carico è per Miss Nightingale. Sono qui apposta. Hanno già caricato il carro, andatevi, prego. Era quel carro? Sì. Ovviamente. Fate attenzione, alcuni oggetti sono fragili. Più veloce! Muoviti, dai! Allenta. Forza! 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 Più veloce! Forza! 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 Grazie a tutti. Appena in tempo. Avete trovato la medicina che ho chiesto? Come sta? Si riprenderà. Babylon, i bambini. Ora potremo distribuire la medicina vera. È una soluzione definitiva. Chiederò di stabilire un regolamento quanto prima. Lambert vi deve molto. Ci vorrà tempo per cambiare le cose. Ma io non ho fretta, Miss Fry. E così le tracce che hai trovato a casa Kenway portavano al monumento. Bel modo di impiegare il tempo, seguirmi ovunque facendo domande ovvie. Beh, dato che Henry non c'è, pensavo gradissi compagnia. Non mi serve compagnia. È Henry Green e sta seguendo altre tracce da solo. Oh sì, caro Green, è una magnifica idea. Oh ti prego, caro Green, vieni a vedere questo libro e stammi vicino, vicino, caro Green. Io non... Bene, forse non hai di meglio da fare, ma io devo proteggere gli assassini. Ma davvero? Com'è che diceva papà? Non lasciare che i sentimenti compromettano la missione. Esatto. A ogni modo, io vado. Se mi imbattessi in altre ricerche inutili, ti avvertirò subito. Sarà un piacere non averti fra i piedi. La nostra legge farà sì che le persone siano sospettate con case migliori e più sicure. Con servizi genici e senza più fiamme di vita. E' un pazziano! Sembrate un branco di scimmie! La vedete! Siete proprio degli ingrati! Volete da... Siamo qui riuniti al monumento al grande incendio. Se vigilare affinché una tale tragedia, Giazzi ripeta massimo. Vorrei ringraziare i nostri ottici. Non ho il primo ministro di Israele, i ministri del Parlamento e voi per essere qui oggi. La legge che proponiamo è che i nostri obiettivi si hanno a prova di fuoco. Sembra familiare. Una ragione di arrabbiare. Più veloce! Muoviti! Dai! Forza! 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 Grazie a tutti. 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 Buongiorno, Miss Fry. La prendo io. Vuoi la Sindone per acquisirne il potere, ma poi saprai controllarla. E tu perché la vuoi tanto? Solo per impedire ai Templari di averla? I soliti assassini hanno il potere della vita eterna, eppure hanno troppa paura di usarlo. Vita eterna. Pensi che la Sindone ti darà questo? Quello che pensi non ti riguarda più. Vieni con me? Ho altri piani. Oh, altri piani. Grazie a tutti.